Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sfoglia alle mele con crema alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, mele rosse tagliate a fette con la buccia, farina di tipo 00, farina di mandorle, zucchero di canna, latte, uovo, tuorlo e burro fuso. Andiamo il via alla ricetta. Abbiamo tagliato le mele a fette lasciandole con la buccia e le posizioneremo su tutta la superficie della pasta sfoglia. Mettere nel boccale lo zucchero, e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'uovo e il tuorlo, il burro fuso, il latte, la farina di tipo 00 e la farina di mandorle. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Versare la crema sulle mele. Spolverizzare la superficie con lo zucchero di canna. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente, prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Sfoglia le mele con crema alle mandorle. Grazie e alla prossima ricetta! Sfoglia le mele con crema alle mandorle. Grazie a tutti! Sfoglia le mele con crema alle mandorle. Grazie a tutti!